I microinterruttori 1 e 2 controllano la modalità di funzionamento. Le impostazioni di fabbrica sono il microinterruttore 1 messo su OFF e il 2 messo su ON e questa è la modalità di risparmio energetico. Significa che tra un allarme e un altro passano all'incirca 3 minuti. Se non vogliamo la modalità risparmio energetico, dobbiamo impostare il microinterruttore 1 su ON e il 2 su OFF. In questo modo non c'è nessun ritardo tra un allarme e un altro. La rilevazione è praticamente continua.